Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un video in cui parliamo nuovamente di un aereo da caccia sovietico. Se nel video precedente abbiamo parlato di questo aereo, ovvero sia il Lavochkin Lag 3 con le illustrazioni di Paolo Pinto tratto dal volume di Angelucci e Matricardi, nel video precedente abbiamo parlato del Lag 3, in questo video parleremo del suo derivato e successore, ovvero sia il Lavochkin Lag 5, eccolo qua, questo aereo qua, come si vede una certa aria di famiglia c'è, ma si tratta di un aereo, come vedete, ben diverso, soprattutto per l'adozione del potentissimo motore radiale Shvetsov da 1700 cavalli che dava a questo aereo la potenza supplementare che mancava al suo predecessore con il motore V12 Klimov in linea. Come vedete si tratta di veramente un gran bell'aereo? Anche in questo caso aerodinamicamente molto 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 curato e diciamo dall'aspetto molto aggressivo. Allora, tenete presente che tutta la famiglia dei caccia Lavochkin, Allora, Semyon Alekseyevich Lavochkin realizzò una vasta famiglia di aerei da caccia. Come ho già detto si parte dal Lag 1, Lag 3 del 1940 e si va avanti praticamente fino all'A11 del dopoguerra che prestò servizio in Corea. Allora, Lavochkin verso la fine del 1941 studiò una variante del suo mediocre, perché oggettivamente il Lag 3 era un aereo poco più che mediocre, e sviluppò una variante a motore radiale del Lag 3. Secondo Lavochkin la cellula del Lag 3 era buona, tra virgolette sana e promettente. Quello che non andava era il motore, decisamente troppo poco potente, soltanto 1050 cavalli per un aereo piuttosto pesante. A causa della struttura in legno anche il A5 era in legno, struttura in legno, rivestimento in compensato, coperto di una speciale resina. Anche qui poteva valere il soprannome di bara garantita, laccata. Questo è un esemplare in volo con cappottina aperta. Eccolo qui, un bel aereo indubbiamente, bello, filante, aggressivo, molto 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 bello a persi, secondo me. Un gran bel aereo. Non all'altezza del... Lui, lui, lui è il più bello di tutti. Lui! Zitti! Ok, scusate, 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 scusate. Allora, praticamente Lavochkin installò sulla cellula del Lag 3, il radiale Shvetsov raffreddato ad aria M82, un radiale a 14 cilindri doppia stella, che erogava 1700 cavalli. E te credo io che andava di più e andava meglio rispetto al predecessore con 600 cavalli di più. Cioè, sono buono anche io. Vabbè, scusate, ecco. Va bene, va bene, va bene. L'A5, grazie a questa modifica, divenne praticamente da subito uno dei principali e uno dei migliori caccia sovietici del conflitto, in assoluto. Le prime prove iniziarono verso la fine di marzo del 42 e risultò che la nuova variante rappresentava un notevole passo in avanti rispetto al predecessore con motore in linea. La maggiore potenza del motore e il grosso risparmio di peso dovuto all'eliminazione del sistema di raffreddamento a liquido non solo compensavano l'aumento della sezione frontale con la conseguenza maggiore resistenza aerodinamica. Perché, insomma, penso che si veda l'AG3, eccolo qui, davanti, e l'A5. Ecco, penso che la differenza, si noti, la maggiore resistenza aerodinamica del caccia a motore radiale, oseri dire che è a dire poco evidente, ma, ripeto, con 600-650 cavalli in più, chi se ne frega! Ecco, va bene, va bene, va bene. Allora, i 650 cavalli in più dello Shvetsov resero possibile anche un sensibile incremento di prestazioni che solo in velocità orizzontale, cioè solo in velocità orizzontale, l'A5 andava 40 o 50 chilometri orari più veloce del suo predecessore e l'installazione della diversa unità motrice fu introdotta nelle catene di montaggio del LAG3 nel maggio 1942. Questa modifica dette vita a macchine di transizione denominate LAG5, che vennero sostituite poche settimane più tardi dal modello definitivo LA5, dove fu installato un tettuccio a visibilità totale. Eccolo qui, il tettuccio all around. Eccolo qua, questo, vedete? La differenza, questo è il tettuccio del LA5, questo è il tettuccio del LAG3, ok? C'è una certa differenza, il tettuccio all around. Noi non ci siamo mai arrivati, loro sono riusciti a farlo praticamente in tre mesi, ecco. Che vi devo dire, signori? Cosa vi devo dire? Dove volevamo andare? Ma vabbè, dopo passo per cattivo. Allora, questi nuovi caccia furono subito inviati ai reparti. La produzione raggiunse molto rapidamente, ritmi assai elevati. All'epoca della battaglia di Stalingrado, il LA5 era arrivato su tutto il fronte. L'aereo tuttavia era ancora da sviluppare, l'aereo era decisamente acerbo, per forza era appena nato, cioè. Le sue prestazioni, anche se molto migliorate rispetto al LAG3, non erano ancora alla pari con quelle del BF 109G del Meshesmith, Gustav, che era il suo principale rivale. Di conseguenza, Lavochkin continuò a lavorare per affinare la sua cellula, per affinare il suo aereo. E le ricerche di Lavochkin portarono ad una nuova variante, la LA5FN. FN è la sigla che sta in russo per richieste del fronte. La LA5FN divenne la principale variante di produzione e in questo aereo, oltre all'adozione di un M82FN che erogava oltre 1700 cavalli, ma che più che la potenza massima aveva l'iniezione diretta che garantiva minori consumi ed una migliore erogazione della potenza, ci fu anche un generale affinamento dell'aerodinamica che era necessaria con un bestione simile di motore. Il progettista passò dalla struttura in legno a quella mista e migliorò le superfici di controllo incrementando la maneggevolezza del caccia. Il LA5FN cominciò ad equipaggiare i reparti nel 1943 e fino all'ottobre del 1944, quando cessò la produzione, venne completato in circa 10.000 esemplari, rimanendo in servizio per tutto il resto del conflitto. Ripeto, già è umiliante vedere che questi hanno costruito 6.000 bidoni come il LA3. In due anni le officine sovietiche hanno prodotto 10.000 esemplari di LA5FN, praticamente pari a tutta la nostra produzione bellica. Dal 1940 al 1943 noi abbiamo prodotto 12.000 esemplari di tutti gli aeroplani. Poi chiedetevi perché ci hanno fatto tanto male, ci hanno fatto tanto dolore, ci hanno procurato. Ovviamente fu anche realizzata una versione bi posto da addestramento denominata LA5UTI comparsa nell'agosto 1943, che era caratterizzata dall'installazione di due abitacoli ravvicinati con tettucci scorrevoli separati. Questi aerei vennero distribuiti non tanto alle scuole di volo, ma soprattutto ai reparti operativi e si dimostrarono utilissimi per allenare i piloti a quello che era rimasto l'unico difetto serio del caccia di Lavocchkin, ovvero sia il comportamento piuttosto difficile, per usare un eufemismo molto difficile, in decollo e atterraggio. Nella primavera del 1944 iniziarono a lasciare le linee di montaggio i primi esemplari della versione LA7, che era stata migliorata e potenziata. In questo aereo le già buone caratteristiche di base vennero ulteriormente esaltate, perché il LA7 era un puro sangue assoluto. E questo, il LA7, servì per gli sviluppi di tutta la famiglia che sarebbero culminati con il Lavocchkin LA11 del dopoguerra. Allora, praticamente, ecco qua ci sono altri esemplari, ecco, guardate qui. Allora, qui ci sono, ecco qui, esemplari di LA5FN, eccoli qui, guardate, eccoli. Cioè, gran begli aerei indubbiamente. Io ho sempre trovato le mimetiche invernali sovietiche dannatamente eleganti. Va bene, è vero. Dopo un po' gli aerei, ma tutti gli aerei, dopo un po' si sporcavano in maniera quasi rimediabile di olio, di grasso, di fumo, di polvere, di terra, di fango, perché, insomma, un aereo in guerra viene spremuto. Logicamente, un po' di olio lo piscia. Gli scarichi dei motori anneriscono la fusoliera, però, come dire, gente, siamo sinceri, già che il LA7 è un gran bell'aereo, ma, cioè, io vi dico la verità, la mimetica invernale, questa, la mimetica invernale a tre toni, grigio, bianco e bianco-azzurro, cioè, è veramente bella, secondo me, a me piace un sacco. E poi, c'è da dire una cosa, cioè, notate, nonostante sia un aereo a motore radiale, la purezza delle linee, c'è l'eccellente lavoro aerodinamico fatto, guardate, questo sopra un LA5FN e sotto un LA7, notate il lavoro di pulizia aerodinamica fatto dalla Worskin. Un aereo eccezionale, cioè, il LA7, madonna me sto in ceppa, abbiate pazienza, ecco, il LA7 era un aereo efficace e bellissimo, potentemente armato, cioè, lasciatevelo dire, i cannoni aeronautici da 20 mm sovietici furono probabilmente tra le migliori armi del loro tipo nel conflitto, perché funzionavano bene e garantivano una potenza di fuoco impressionante a questi aerei, che ripeto, guardate, nella livrea grigia sono veramente belli, sono veramente eleganti, cioè, abbiate pazienza, credo che siano veramente splendidi in questi toni, in queste livree, gli aerei sovietici. Eccone qua un altro, questo con una inconsueta, questo è l'aereo, il LA5FN del tenente Popkov, eroe dell'Unione Sovietica, guardate che bello, cioè, gente, scherzi a parte, cioè, ma questo sotto è uno Yak, non c'entra nulla, però guardate bene, cioè, è veramente bello come aereo. E soprattutto l'eleganza della livrea grigia, che a me ha sempre colpito molto, è un aereo splendido, secondo me. Poi dopo, ripeto, questa famiglia di Lavochkin diede origine al LA9 e al LA11. Eccone qua alcuni esemplari, sempre nella tenuta grigia, eccoli qui. Questa è la versione biposto, notate, eh? Ecco, con i due abitacoli dai tettucci scorrevoli separati. Eccone qua altri esemplari. Questo è il logo delle officine Lavochkin, eccolo. Cioè, guardate, un aereo, ripeto, bello, aggressivo, che poco o nulla, anzi direi nulla, aveva da invidiare al ben più noto e ben più celebrato Fokvolf 190. È un bellissimo aereo, secondo me. Un aereo che mi piace veramente molto. E per essere un aereo sovietico, che i sovietici, come ben sapete, sono noti per badare al sodo, ripeto, è sorprendentemente, sorprendentemente elegante. Ci fu anche, ecco, questo è praticamente l'ultimo, ehm, ehm, dov'è? Aspettate che me lo sono perso, porca miseria. È il bello di usare i libri è che tocchi con mano il, il, come dire, tocchi con mano il, il disegno. Però, ripeto, sarebbe, io devo imparare ad editare i video e pubblicare le foto. E questo qui è un Lavochkin LA11 che operava nella Siberia settentrionale. nella livrea ad alta visibilità per terreni innevati. Eccolo qua. Cioè, guardate, signori, è un puro sangue. Il LA11 è un puro sangue magnifico. Veramente, 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 veramente bello. Un grande aereo, si vede. Il passo finale di una famiglia di aerei straordinari. Un aereo sensazionale, indubbiamente, per eleganza, finezza e ricerca aerodinamica. Insomma, signori, più o meno questa è la storia dei Caccia Lavochkin. Adesso, come sempre, tocca a voi. Commentate qua sotto. Vi rinnovo l'appello ad iscrivervi al canale se non vi siete già iscritti. E mi raccomando, dateci dentro con commenti qua sotto. Passate una buona serata. Vi ringrazio di tutto cuore per aver guardato questo video. Arrivederci al mio prossimo video e soprattutto, ciao!